E' arrivato il momento per chi ha appena acquistato la nuova 33 Alfa Romeo di scoprire un mondo assolutamente affascinante, ricco di oggetti esclusivi, dal design raffinato e dai materiali selezionati, destinati ad esaltare ancora di più il comfort delle nuove 33. Questo è il mondo degli accessori Alfa Romeo. Studiati con le stesse tecnologie utilizzate per le vetture, gli accessori Alfa Romeo sono stati creati per favorire un montaggio semplice e corretto ed in perfetta armonia. Dalla grintosa serie di cerchi in lega, alla sobrietà degli specchietti retrovisori, dagli efficaci sistemi di climatizzazione, alla varietà di colori e tessuti della nuova linea di copri sedili su misura. Per ogni stagione Alfa Romeo ha tante idee originali da proporvi. Con l'arrivo dell'autunno la sicurezza di guida è assicurata dai potenti fendinepi originali. Durante l'inverno poi è piacevole riscoprire l'eleganza dei copri sedili in pelle. Affrontare le strade più innevate sapendo di poter contare sulla comodità delle catene da neve a montaggio facile. Pochi e semplici gesti e si è subito pronti a ripartire. Dotata di una chiave di sicurezza, la barra portatutto è lo strumento ideale per trasportare volumi di qualsiasi natura. Per i weekend in montagna il kit completo della barra portatutto si può trasformare in porta sci con un ulteriore dispositivo di chiusura antifurto che blocca e protegge gli sci. Inoltre a seconda delle esigenze la barra può diventare comodamente porta bici, porta surf o semplicemente porta pacchi. La sicurezza della vostra auto affidatela agli antifurto firmati Alfa Romeo. Sicuri, affidabili e già predisposti ad un facile collegamento con l'impianto elettrico delle 33. Agli amanti della musica, Alfa Romeo dedica un'interessante gamma di autoradio, selezionata per garantire un perfetto ascolto stereofonico nell'abitacolo. Ma le novità sono ancora molte, tutte da scoprire nel catalogo accessori in dotazione su ogni 33. Consultatela e chiedete subito informazioni al vostro concessionario. Gli accessori Alfa Romeo sono stati studiati per far parte di un unico originale disegno. Il disegno della vostra 33 Alfa Romeo.